Sight crea sistemi elettronici, hardware e software. Specializzati nell'ideazione e realizzazione di attrezzature mediante elettronica custom, la nostra prerogativa è fornire un servizio completo, partendo dall'idea, passando per la progettazione e concludendosi con la produzione dei dispositivi. Il personale del nostro ufficio tecnico collabora dinamicamente con il cliente, curando le fasi di analisi, progettazione, prototipazione, validazione e certificazione e le successive fasi di produzione e di industrializzazione del prodotto. Il montaggio e la saldatura delle schede elettroniche viene effettuato a seconda delle applicazioni in modo manuale, semi-automatico o completamente automatico all'interno della nostra azienda con attrezzature pick and place. L'assemblaggio, le tarature e i collaudi parametrici e funzionali del dispositivo vengono eseguiti in sede da tecnici altamente specializzati, con attrezzature automatiche o semi-automatiche periodicamente verificate e calibrate. Applicazioni industriali e civili, applicazioni medicali e agricole, applicazioni e trasmissioni dati. Ascoltiamo, proponiamo ed insieme ai nostri clienti creiamo il cuore tecnologico capace di fornire la risposta sicura ed efficace per ogni necessità. Un servizio globale, dalla progettazione e costruzione dell'elettronica a tutto ciò che è necessario all'ottimizzazione dell'impianto di automazione o controllo. Un unico fornitore in grado di sopperire a tutte le vostre esigenze nel settore elettrico ed elettronico. SAET. Inside your life.